Ergeligio e Musatti che va con la Primavera, fatto una settimana un po' a parte per un problema influenzale e quindi va a dare una mano alla Primavera a partita di oggi. La prossima settimana inizia a lavorare con la squadra. Sì, forse l'ultima, la domenica col Pordenone magari potrebbe essere a disposizione, vediamo come fa quella settimana, però quasi sicuramente ci sarà. E quindi dove eri? A poco fa, mi riferisco a Carraro, mi riferisco a Di Molfetta, per cui sono pienamente recuperati e quindi pienamente disponibili. Cosa ti fa paura dell'Arginiano? Sì, è una squadra molto compatta, ben organizzata, ha una bella dose di agonismo e di forza fisica. È una squadra che giustamente sta facendo bene in questo campionato perché riesce a mettere in difficoltà tutti e a subire anche poco. Per cui è una squadra ben equilibrata, magari rispetto ad altre della categoria non ha grandi punte di qualità, punte nel senso giocatori di qualità, non punte attaccanti ma giocatori di qualità. Però ha delle individualità, anche loro hanno delle individualità che possono mettere in difficoltà chiunque e l'hanno anche dimostrato. Sì, 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 ma l'atteggiamento è la cosa principale. Lo spirito e la voglia di vincere, la fame di andare in campo a dare tutto è un altro aspetto importantissimo e non ultimo riuscire tutti a fare qualcosa in più. Io ritengo che fino ad oggi siamo meritatamente tra le prime in classifica, in una classifica molto corta dove l'impressione che in tante stiano ancora cercando di trovare l'equilibrio, diciamo così, una certa continuità e questo insomma un po' anche noi. Abbiamo la necessità di alzare il livello un po' tutti, un po' in ogni reparto con la fiducia, la consapevolezza che se siamo davanti non avendo espresso o comunque avendo espresso a tratti tutte le nostre potenzialità, le nostre qualità, possiamo fare bene come vogliamo fare. Quindi la fiducia di questo è che dobbiamo cercare tutti di alzare il livello un po', un po' di più di quello che stiamo facendo adesso per alzare appunto il livello di squadra, di gruppo e di prestazioni. Perché abbiamo perso partite, anche l'ultima, dove probabilmente non avremmo meritato di perdere, però al tempo stesso abbiamo vinto anche partite dove non abbiamo messo al sicuro il risultato. Quindi credo che la classifica in questo momento, i punti che abbiamo, siano lo specchio fedele di quello che abbiamo dato e di quello che abbiamo dimostrato fino adesso, ripeto, con la fiducia di non essere ancora al 100% o comunque di non aver espresso tutto il nostro potenziale. Ma è il primo tempo dovuto, dovuto a così un po' anche alla bravura loro e il nostro, il nostro primo tempo purtroppo abbiamo pagato la non giornata di qualche, di qualche elemento e di qualche, e di qualche situazione. Poi ripeto, nel secondo tempo abbiamo provato di tutto, abbiamo fatto di tutto per cercare di recuperarla e come ho detto prima, è una partita persa immeritatamente. E continuo a dire quello che ho detto prima, dobbiamo cercare di rendere le gare più sicure e cercare di rendere le partite più indirizzate dalla nostra parte e non tenerle in bilico o in discussione come abbiamo fatto un po' fino ad oggi. Sì, però ci sono numeri che sono la squadra ancora squadra quando subisci pochi gol sicuramente sì è quello che bisogna fare è quello che dobbiamo assolutamente continuare con questa intensità atteggiamento attenzione e ce lo dobbiamo portare dietro perché la fase difensiva sicuramente la stiamo facendo bene tutti dall'attaccante dall'attaccante al portiere questa cosa qua è da grande squadra e dobbiamo continuare a farlo sotto questo punto di vista la squadra non è mai mancata anche l'altro giorno con la Provercelli abbiamo concesso un tiro in porta su un cross da tre quarti e un tiro è un'occasione al novantasesimo quando ormai eravamo tutti avanti quindi questo è un segnale da squadra importante sicuramente i gol fatti sono pochi però ripeto quello che ho detto prima sicuramente cercando di dare qualcosa in più tutti e abbiamo attaccanti che i golli hanno sempre fatti per cui ho fiducia che si cambi un po' questo andazzo dai centrocampisti qualche gol abbiamo avuto e dobbiamo continuare dobbiamo fare sicuramente qualcosa in più sulle palle native perché anche i difensori quando vanno a saltare devono essere decisivi e determinanti almeno dare l'impressione di essere più pericolosi di quello che stiamo facendo adesso perché altrimenti è meglio se rimangono dietro però di certo davanti ci manca qualche gol di attaccanti che i golli hanno sempre fatti per cui la fiducia sta anche in questo e avendoli sempre fatti i gol prima o poi li faranno anche l'anno scorso non eravamo partiti benissimo a gol di attaccanti e poi alla fine ci siamo ritrovati con tanti giocatori doppia cifra vicino alla doppia cifra per cui devono solo lavorare sereni perché i gol prima o poi li troveranno è un mancino di ruolo abbiamo avuto anche lì qualche qualche problemino di condizione di rendimento rossalines l'ha fatto bene fino fino ad oggi poi è chiaro che ripeto quello che ho detto per tutti gli altri dobbiamo fare tutti qualcosa in più anche in quel ruolo lì dobbiamo cercare di fare qualcosa in più ma noi sappiamo abbiamo nelle corde due due moduli e continuiamo a lavorare su quello non abbiamo dubbi su queste cose qua perché ripeto la fase difensiva fatta bene ci dà delle grandi certezze e dobbiamo continuare così e la fase offensiva ripeto aspettiamo solo che si sblocchino e ritrovino fiducia quello che ho detto prima sia gli attaccanti e sia una mano in più da parte di tutti i centrocampisti i difensori quando gli capitano le opportunità per poter andare a segnare è sempre molto è sempre molto gentile carino ma perché ha fatto da giocatore purtroppo categorie bassa e quindi non ha avuto la possibilità di essere allenato da allenatori migliori di me quindi a piacere chiaro è un è un giocatore che che mi ha dato tanto da giocatore sono contento di avergli dato tanto anch'io a lui da giorda da allenatore poi c'è tanto c'è tanto di suo è per quello che ha dimostrato in cimbi e sta dimostrando adesso in serie a poi nel suo staff ci sono anche altri ex compagni di squadra e altri miei giocatori quindi è una squadra a cui voglio un occhio di riguardo allora lui ha come collaboratore dal dosso orlandoni un massaggiatore che avevo quando era alla spalla direttore sportivo abbiamo giocato assieme è una società